Occupiamoci adesso delle presentazioni di tipo slide presentation, che qua troviamo sotto la voce, come sempre facendo clic su il mio drive, poi si apre il menu e leggiamo presentazioni google, facciamo clic su presentazioni google. E si apre una pagina con un aspetto effettivamente del tutto e per tutto simile a quello, ancora una volta, della più famosa suite di microsoft. E quindi abbiamo qua una diapositiva, nella quale possiamo aggiungere un titolo, prova presentazione, ad esempio, e un sottotitolo. Vabbè, non ha importanza in questo momento. A questa diapositiva, naturalmente, che possiamo fare? Possiamo cambiare lo stile, anzi, viene chiamato tema, il tema grafico, ce ne sono pronti tutta una serie, altrimenti possiamo evidentemente editarli noi stessi. Possiamo utilizzare i vari strumenti, che sono messi a disposizione dal menu e dall'icone sotto il menu, per tutte le diverse funzioni possibili. Ad esempio, se facciamo qui clic su più, chiaramente aggiungiamo una nuova diapositiva. Possiamo anche aggiungerla con diverso tema grafico, come vediamo. Se facciamo clic su casella di testo, aggiungiamo questa a una nuova casella di testo, per esempio. E così via. Possiamo, naturalmente, importare immagini, disegnare linee, forme varie, frecce, inserire tabelle, inserire link ipertestuali e quant'altro possiamo desiderare fare in una presentazione di questo genere. La cosa, ancora una volta, da mettere in evidenza, è che questa presentazione sarà registrata direttamente sullo spazio drive dell'account che stiamo utilizzando e potrà essere condivisa con altri utenti che non avranno neppure bisogno di scaricarla, ma potranno aprirla, vederla ed eventualmente modificarla, se ne hanno i privilegi, direttamente da questo spazio. Ci sono poi alcune funzioni più evolute, per esempio da avvia presentazione, vediamo questa visualizzazione presentatore. La visualizzazione presentatore consente di fare una cosa che precedentemente, nelle precedenti versioni, non era assolutamente possibile, e cioè è possibile fare delle domande in tempo reale da parte del pubblico, cioè il presentatore domanda al pubblico e si visualizza un link per fare questa domanda, si visualizza un link sullo schermo e in tempo reale gli spettatori della presentazione possono fare delle domande in merito alla presentazione stessa. Eventualmente se ne farà di questo un altro video. In questo momento mettiamo il test slide, lo chiamiamo, benissimo, e chiudiamo. Una volta chiuso vediamo che test slide è per l'appunto nello spazio, il mio drive.